...con Trotti, allenatore del Caprino, oggi vincente a Treviglio, quali sono le sue considerazioni da dare al termine di questa partita? Partita difficile anche per il momento nostro che stiamo passando, nelle ultime partite di il giorno dell'andata, oggi l'importante era solo vincere, volevo soffrire di meno, la partita non è stata una bella partita perché non c'è stato tanto gioco, loro buttavano parecchio davanti, con il centro davanti loro alto, volevano farla spizzata e siamo andati un po' in difficoltà, siamo riusciti a sbloccarla e di lì abbiamo mantenuto, soffrendo verso la fine, questi lanci lunghi, però l'importante era portare a casa il risultato. Cosa si aspetta dal girone di ritorno? Ritorno, prima di tutto, è tirarci fuori da questa situazione il prima possibile, poi vedere a che punto arriviamo quando saltiamo fuori, quante giornate mancheranno alla fine, vediamo, però la prima cosa è tirarci fuori da questa situazione.